pura tradizione irlandese con menù personalizzati sceltissima è la qualità delle carni dall'irlandese alla pregiata del Nebraska e da non dimenticare la nostra fiorentina ma la brace arde per molte altre pietanze oltre a selezionati i menù della nostra cucina ricchissime le nostre grandi insalate e appetitosa la nostra gastronomia espressa per uno snack o un pasto veloce fornitissima la nostra cantina dei vini oltre al prestigioso gruppo Guinness al Flan O'Brien si può gustare oltre la tipica atmosfera irlandese il piacere dello stare insieme seguendo la propria squadra del cuore e di tutti gli sport grazie a tutti